Al di là delle motivazioni statutari, c'è un tema che da quando giorgiamo nel governo ci si pone la questione dei legami tra i fratelli d'Italia e alcune formazioni a destra che hanno lasciato abbastanza intatti i rapporti con un certo orizzonte, quantomeno culturale se non politico. Allora noi siamo andati sulla pagina Facebook di H. Larenzi, abbiamo trovato quello che adesso Sabrina Tricarico vi mostra. Ci sono dei post, eccolo qua, 15 marzo 23, 15 marzo 24, comandante Luigi Concutelli presente, la frase sotto in latino è si morto suit. Pensavo l'immortaci tua, credo, perché ci saremmo... No, 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 anche morto ardi. Concutelli però non era una brava persona. Anche se morto ardi. Allora perché fa scalpore questo post sulla pagina di H. Larenzi, la cui sede, ricordiamo, è stata comprata con i soldi della Fondazione S. Sì, ne abbiamo discusso oggi perché, e anche con opinioni diverse, mentre io ritengo legittimo che una fondazione che vuole preservare i valori della destra dica noi compriamo quella sede, perché lì sono morte tre persone, tre vittime uccise nel 78 gennaio da una mitraglietta che poi è entrata nelle Brigate Rosse. Non sappiamo chi l'ha manovrata, ma sappiamo che è ucciso ancora. Ecco, invece mi stupisce molto, proprio trattando di sei tre vittime, due furono uccisi dalla mitraglietta, uno, Recchioni, fu ferito negli scontri a fuoco che seguirono quella carneficina. Ecco, mi stupisce veramente che ci sia questo sul sito dell'associazione che ha comprato la sede, che dovrebbe essere unitaria, anche secondo quello che racconta le mani, e ci sia Concutelli. Perché è importante Concutelli? Perché uno dei personaggi più oscuri dell'eversione, uccise il giudice Amato, che fra l'altro aveva indagato sulla destra e uno fra i primi su Piazza Fontana, e poi dopo uccise in carcere strangolandolo un pentito, Buzzi, che stava rivelando era un imputato del processo sulla strage di Brescia, e poi, guarda, pensa in coincidenza, ha addirittura avuto modo di garrotare un altro pentito paladino che stava raccontando delle verità sulla strage di Bologna. Quindi, incredibilmente, la scia di sangue di quest'uomo, che secondo questa pagina è un comandante che illumina con il suo esempio, coinvolge le tre stragi più importanti della storia italiana, e ha come vittime, Marianna, due persone di destra. Quindi, siamo veramente ai livelli, è come se in una pagina di una fondazione che tiene insieme la sinistra ci fosse un elogio, non lo so, di Barbara Balzerani, oppure di un personaggio, Senzani, che ha ucciso anche un brigatista. Sulla stessa pagina c'è un elogio anche di Leon De Grel, che è definito ultimo principe d'Europa, ed è un ufficiale nazista delle SS, che Hitler avrebbe voluto come figlio. Insomma, è un teorico anche oltre che uno... Provo a chiarire un po' di cose, perché in questi giorni si sono lette una serie di ricostruzioni che non corrispondono minimamente al vero. Anzitutto, che cos'è la Fondazione Alleanza Nazionale? La Fondazione Alleanza Nazionale non è la fondazione di Fratelli d'Italia, è una fondazione, è la principale fondazione della destra italiana, al cui interno ci sono varie anime. Voi stessi avete giustamente intervistato poco fa Gianni Alemanno, che come ben sapete è in un altro partito, è una posizione molto critica nei confronti di Fratelli d'Italia, ma all'interno della Fondazione N ci sono delle anime che rispondono addirittura a Forza Italia, delle anime che rispondono alla Lega. Ma mettiamolo così, i rappresentanti di Fratelli d'Italia come hanno votato sull'acquisto del... Adesso arrivo anche a questo. Ci sono anche dei rappresentanti di Fratelli d'Italia, ma non è una fondazione di Fratelli d'Italia, è una fondazione indipendente che rappresenta la destra. Dopodiché, sul tema del finanziamento, la Fondazione Alleanza Nazionale, questo è un punto di rimente, non ha mai finanziato l'associazione a Calarenza. La Fondazione Alleanza Nazionale ha finanziato l'acquisto di un immobile con un assegno intestato all'Inail, è un ente pubblico, perché la sede di H. Larenza... La notizia è che l'hanno pagata a differenza di Casapano. La sede di H. Larenza era andata all'asta, onde evitare che all'interno di questa sede potesse essere acquistata da chiunque, quindi vi fosse potenzialmente... adesso è in capo a quell'associazione di cui noi abbiamo visto questa pagina. Quindi, voglio dire, quell'assegno è andato in favore, come si può dire, dell'associazione. No, tecnicamente no, perché è andato a favore dell'Inail per evitare che quel luogo, che è un luogo, come ricordavate giustamente, di memoria, di una pagina buia, drammatica della storia italiana, potesse essere utilizzato in altri modi. Però è un luogo dove si celebbrano altre pagine buia e drammatiche, adesso è un mazista convinto. Però questa non è colpa della Fondazione Alleanza Nazionale. Se voi mi facevate vedere un post scritto alla Fondazione Alleanza Nazionale con quell'immagine, io giustamente avevo detto che è un problema. Però Giulio, scusa un attimo, le faccio questa domanda. Visto che lei dice, ripeto, io ero d'accordo su questo, abbiamo aiutato questa associazione perché non diventasse una sala bingo o un negozio di alimentari. Ed è un senso. Però quindi lei considera gravemente sbagliato che ci sia l'apologia di un terrorista nero, fra l'altro anche oscuro negli inquinamenti. Io penso che anche quelle tre vittime sarebbero esacrate dal fatto di avere una simile giubilazione. Non rispondo di quello che scrive l'Associazione Accalarenza, dopodiché io ho una visione della destra, come ben sapete, che è una destra conservatrice che si riconosce in altri ideali culturali. Però se l'Associazione Accalarenza scrive quello, dovete chiedere a loro. Il punto importante è che la Fondazione Alleanza Nazionale ha finanziato l'acquisto dell'immobile, non l'Associazione Accalarenza, così come ha finanziato un'associazione di vittime del Covid. Non è che ha dato i soldi a Forza Nuova. Anche questi sono aspetti importanti. Il Covid in realtà era un'associazione apertamente Novax che contestava addirittura... Da cui è partita l'inchiesta su Conte e su Speranza. Sì, però anche qui, se un'associazione viene finanziata e poi decide liberamente di fare mesi dopo un'inchiesta nei confronti... di far partire un'inchiesta nei confronti di Conte e Speranza, non aspetta. E un ultimo punto, altro punto importante, molto veloce, e queste spese sono state messe a bilancio. Anche questo è un punto importante. Ci mancherebbe pure... No, è stato detto... Cioè, sono fondi neri, ma in un altro senso, diciamo. No, no, è stato detto. Ci sono delle ricostruzioni che hanno detto che i fondi non erano stati messi a bilancio, le hanno scritte alcuni giornali, sono stati messi a bilancio, e quindi è una cosa pubblica. Sono dei fondi dati all'Inail, che è un ente pubblico che chiunque può scoprire, per cui non c'è uno scoop, se vogliamo. Beh, insomma... No, io volevo dire intanto che la caccia alla Meloni è finita e su un fronte...